Infadrone di Tasa, numero 1 Montrasi, numero 2 Cervizi, numero 3 Amin, numero 4 Renolfi, numero 5 Sironi, numero 6 Bacirca, numero 7 Curatolo, numero 8 Bagdadi, numero 9 Repossini, numero 10 Mangolini, numero 11 Amelea. Grazie a tutti. 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 Tira! 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 Per il finale, ha segnato il numero... diciotto! Leo, El Zavi! Grazie a tutti